Ciao a tutti, sono Umberto Celestini, KACE Mini-Escavators Product Manager, e benvenuti al cammino della nostra nuova linea di mini-escavatori, KACE D Series. CX-19D. Questo è un modello del zero-tail-swing, con stabilità di stagione, di rinforzamento e di rinforzamento, associato con agilità top in spazi confini. Questo è un obiettivo per modelli di questo tipo, ma non è così comune in l'industria. La manovrabilità e la stabilità sono anche scoperta da un'integrazione idraulica estendabile, che aumenta e shorta il cammino tra 190 mm e 1300 mm, in modo che le caratteristiche e le caratteristiche di lavoro. Continuiamo con altre fissure di produttività. Il cammino di 13,7 kW, ciò che mette le necessità di stagione 5, con nessun sistema di trasportamento. La consumazione completa è bassa, anche grazie a una pump di volume variabile, che è offerta come standard, e che ha un'olio solo quando necessario. La cammino di macchina è scoperta con una trasmissione di velocità di velocità di velocità, con un'alto di velocità di velocità di velocità di velocità, se più traccia è necessaria, e la cammino di velocità di velocità. La CX-19D viene standard, con un effetto di un effetto di singolo o doppio, in primo circuito di auxilio, con controlli di controllo elettroproportionali. E' acqua più di 30.0L di fluccia di velocità di velocità di velocità, con 200 bar di pressione operativa, per il caso erano perfettamente per alzaci come il calcolo e il calcolo. Può essere anche preparato con un secondo ozzurto e anche un'altra ozzurro. Esattamente con un coperolo idraulico, uno dei numeri della offertura, che garantisce una versatilità extrema per montare una variettura di attaccioni disponibili Questo modello può essere equipato con un 2-piece boom, che è unico nel mercato di questa dimensione. Le avvantaggi e operazioni che possiamo offrire con questo tipo di boom sono così importanti che crediamo che sia valore dedicato a un modello specifico, Case CX-20D. Solo per dare un'idea delle avvantaggi in performance e produttività versus a standard monoboom, un 2-piece boom di questa dimensione ha un'attività di 30% più alta , un'attività di orizzontale 10% più lunga , un'attività di 100 mm più profondità, con l'abilità di profondità di profondità molto più vicino alla macchina grazie alla geometria di due punti di pinza. Vediamo quanto importante per un operatore può essere lavorare in un ambiente comforzato, anche su piccole macchine come questa. ogni singolo dettaglio funziona. Questo è per cui questo modello può essere offerto anche in versione cab, che è abbastanza inusuale per questo tipo dell'industria. L'operazione di operazione è ergonomica e spazio. È equipato con ristresti ristretti vicini ai servo assistiti autoralizzati, che sono equipati con controlli elettroproportionali per il swing boom e i circoli auxiliari. La mantenzione sicura e facile è garantita dalla barra tilta e del cab. La tilta è una operazione molto facile e facile. Ho solo bisogno di uscire due punti e la canapia tilta avanti e può essere sicuramente seguita. È facile, sicuro e veloce. Una volta tilta, tutti i punti di mantenzione sono perfettamente accessibili. La schizia di sicurezza disabilizza la possibilità di turnare la macchina in caso il cab non si trova in la posizione correcta. A presto.